All'abbazia di San Clemente a Casauria si è svolto il giorno del Parco Nazionale della Maiella, Geoparco Unesco, con la regia del presidente Lucio Zazzare e del direttore facente funzione Luciano Di Martino, che hanno raccontato lo stato dell'arte dei progetti che sta portando avanti l'ente. Un ottimo lavoro. Purtroppo nel passato, anche recente, i parchi erano spesso vissuti dal territorio quasi come un ostacolo, un freno allo sviluppo e un problema quotidiano da affrontare per lo sviluppo delle proprie attività, soprattutto da parte di agricoltori e aziende. Con la gestione di questi anni, in particolare con il presidente Lucio Zazzara e il direttore Di Martino, si è cambiato passo. Credo che il rapporto oggi mai sia stato così proficuo, fruttuoso e nel rapporto anche con le amministrazioni comunali così è aperto il dialogo e la collaborazione. Il Parco della Magliella negli ultimi anni ha mutato e ampliato il suo compito. Da quello di una importante tutela del creato nei confini del Parco e dei suoi contenuti, sia dal punto di vista della fauna e della flora, sta cercando di inserire forme di nuova economia sostenibile e di narrazione dei territori, con i cammini, con i castelli, con il museo della Valle Giumentina che si sta pensando, con il museo diffuso del Parco della Magliella. Questo aiuterà a far convivere le popolazioni con il Parco e a far progredire le aree protette. È bello poter festeggiare il Parco della Magliella perché è una realtà straordinaria, una ricchezza del territorio abruzzese insieme agli altri due parchi, perfettamente gestito. Mi sono congratulato, come è giusto che sia, con il presidente Zazzara, ma anche con il direttore facente funzioni, Luciano Di Martino, perché conoscono perfettamente questo territorio, lo stanno valorizzando, stanno integrando perfettamente quello che è la protezione dell'ambiente naturale, quindi di fauna e di flora, con le realtà straordinarie, storiche, artistiche. Fil rouge della giornata, un progetto di land art a cui partecipano tre artisti di dagli appennini alle arti, con interventi mirati a creare un equilibrio tra conservazione della biodiversità e sviluppo di un'economia sostenibile per rilanciare il territorio. I temi sul tappeto sono molti, sono i temi soprattutto dell'interpretazione del ruolo del parco nazionale su questo territorio e di quello che stiamo cercando di dire e di dimostrare attraverso le cose che facciamo e che l'azione della tutela ha successo, soprattutto se si riesce a fare portando sul territorio dei nuovi motori di sviluppo e quindi coinvolgendo la popolazione a tutti gli effetti. Questo convegno si pone un po' come il racconto di quello che il parco sta svolgendo in questi ultimi anni e quindi con il presidente Lucio Zazzara siamo contenti di poter rappresentare a tutti gli abitanti della nostra area protetta, alle amministrazioni, ma anche alla regione Abruzzo gli sviluppi delle attività intraprese che sono sviluppi positivi.